Il dottor Davide Bisogno vi aspetta in via Starza 27 a Cava dei Tirreni. Nel pomeriggio di giovedì 11 gennaio si è tenuto l'open day dell'iceo classico Marco Galdi di Cava dei Tirreni, iniziativa volta a presentare ai futuri studenti l'offerta formativa del prossimo anno scolastico. Abbiamo chiesto alla dirigente scolastica Maria Alfano un resoconto dell'evento. Ci racconti come si è svolto l'open day del giovedì 11? È stata una bella serata dove il tradizionale liceo classico Marco Galdi ha aperto le porte alle famiglie e agli studenti cavesi e non, perché abbiamo avuto anche un afflusso di persone dei territori vicini. In un primo momento ovviamente c'è stata l'accoglienza nella hall, se vogliamo così dire, cioè nell'ingresso della scuola. Poi si sono distribuiti alunni ipotetici scritti, ma anche i nostri stessi alunni con i docenti e i genitori nelle varie aule per dare una presentazione dell'istituto, delle discipline caratterizzanti che spesso fanno paura, il latino e il greco. Ed è stata molto simpatica una ragazza che ha presentato in maniera proprio spontanea, una ragazza di una classe seconda, tutte le sue emozioni, quando si è iscritta, quando ha cominciato a frequentare e tutto ciò che vive come alunna del liceo classico Marco Galdi. Successivamente ci sono state anche varie postazioni di performance, sia nell'aula magna con il liceo musicale, infatti si sa che nel Galdi funziona il liceo classico e il liceo musicale che abbiamo da qualche anno, che oramai è ben impiantato, ha una propria storia, anche se è una storia giovane. E quindi, dicevo, nell'aula magna ci sono state performance sia di alunni in duo, come solistici, e soprattutto poi alla fine il gran finale con l'orchestra diretta dal professore Stefano Giuliano, che ha lasciato tutti gli ascoltatori ben piacevolmente sorpresi. Un'altra chicca, un'altra cosa molto simpatica, giù davanti alla biblioteca, che è una biblioteca storica del Galdi, si è esibito anche il coro, formato sia dagli alunni del musicale, ma soprattutto dove c'era la presenza di alcuni docenti, del classico, che sono stati coinvolti in questa attività divertente, si sono messi in gioco e si sono trovati coinvolti a fare qualcosa insieme agli alunni, qualcosa di nuovo e a esporsi anche in prima persona. È stata una cosa veramente piacevole. E poi, infine, anche per concludere tutta la serata, ci siamo riuniti nell'Odeon, per così dire, quindi nell'aula magna, con una serie di performance anche dei ragazzi del classico, dove, come dire, si è un po' presa un approccio particolare, perché il liceo classico, per eccellenza, è considerato il liceo più statico, il liceo più tradizionale, lo dice il nome stesso, mentre invece noi abbiamo presentato dei passi greci con i ragazzi che rappresentavano i personaggi in chiave ironica. C'è stato addirittura il gioca-joué in greco, un'esperienza didattica molto bella che era stata già svolta nell'anno precedente e che aveva adessato proprio l'attenzione di Claudio Cecchetto, che ha scritto alla professoressa che aveva organizzato questa cosa. E devo dire che tutti abbiamo ballato il gioca-joué a partire da me stessa. E quindi voglio dire il messaggio che si è voluto passare ai probabili utenti o comunque alla cittadina cavese che vive la realtà del liceo Galdi come un liceo della propria identità, che è un liceo che forma, è un liceo dove c'è un approccio serio, integrale ed integrato, ma dove negli ultimi tempi ci si sta anche rendendo conto che bisogna essere aperti all'ascolto, all'innovazione e a una società tutto sommato liquida, molto performante e quindi è chiaro che noi come scuola ci mettiamo non solo a passo con i tempi, ma cerchiamo anche di prevenirli.